Il sindaco Giuseppe Buzanca preferisce la definizione doppia elezione, non vuole sentire parlare di doppio incarico. Cambia poco, visto che si tratta comunque di incompatibilità, sancita ieri anche dal Tribunale di Palermo, che lo ha fatto decadere dalla carica di deputato regionale, accogliendo il ricorso del primo dei non eletti Antonio D'Aquino, sostenuto dall'avvocato Antonio Catalioto. Il primo cittadino di Messina però non molla e ricorrerà in appello. Appare scontato che la decisione di secondo grado sarà uguale a quella di ieri, ma intanto altri due mesi da onorevole sono assicurati. E così a Palermo si è scritta una nuova pagina della commedia che ha per protagonisti politici e per palcoscenico i tribunali. Buzanca in questo contesto, analizzando i fatti dal suo punto di vista, appare comunque vincitore. Consigliato dall'ex avversario ed oggi braccio destro avvocato Marcello Scurria, nonostante le pressioni e l'evidente irregolarità della sua posizione, è riuscito a muoversi nei tempi e negli spazi consentiti dalla legge quasi fino al termine dei due mandati. Al termine di questa battaglia legale, presumibilmente a maggio, sarà rimasto deputato regionale quasi fino alla scadenza della legislatura, prevista per l'anno prossimo, con buona pace di Daquino, che sarà onorevole in carica solo per l'ultimo breve periodo che anticipa il rinnovamento dell'Assemblea regionale siciliana. Poco importa se in queste ultime ore i toni dell'opposizione si sono fatti ancora più duri. I segretari di PD e Italia dei Valori, Grioli e Mammola, hanno dichiarato che l'atteggiamento di Buzanca getta discredito sull'immagine di Messina in Italia, ma nonostante le sentenze il sindaco deputato non si schioda.